Ben trovati nell'angolo dello sport. Commentare la partita contro il Milan e commentare una sconfitta lascia davvero la mano in bocca perché insomma anche da cronista pur volendo spaccare i 97 minuti, 90 più 7 di recupero in varie tranche per cercare di analizzare i vari aspetti della partita bisogna riconoscere che il Pescara ha fatto una bella partita, ha giocato bene, peccato però che l'unico errore che è stato fatto da Mitrita, lui ha sbagliato il passaggio, poi per rimediare ha fatto fallo e c'è stato questo calcio di punizione, va a vedere che proprio quella palla tirata a raso terra va a prendere l'attimo in cui due uomini della barriera si sono alzati pensando forse ad un tiro alto per cui cercare di respingere di testa, la palla è andata beffardamente in rete e ha segnato Bonaventura, quando il destino è nel nome dicono, dicevano i latini, Bonaventura ha portato bene al Milan, non è andata bene al Pescara che si ritrova adesso in una posizione di classifica davvero pesante perché l'Empoli ha pareggiato, il Crotone ha vinto, la Sampadoria ha vinto e quindi si è ancora di più allontanato e oggi come oggi comincia ad esserci, anche se volessimo analizzare la classifica dicendo che ci sono quattro squadre in fondo che sono Pescara, Empoli, Palermo e Crotone e quindi ci sarà questo mini torneo delle quattro squadre, tre ne devono retrocedere, dire che negli scontri diretti il Pescara potrebbe battere questi avversari che sono tutte e tre da incontrare, domenica prossima l'Empoli e poi in seguito dovremmo incontrare sia il Palermo che il Crotone, però non è detto che se vinci gli scontri diretti ti sei salvato di sicuro perché i punti conquistati nello scontro diretto potresti perderli indirettamente su altri campi laddove tu non fai risultato e invece le tue avversarie sì, che significa questo? Significa che il campionato si è appesantito di molto, il pesantito sta pagando gli errori del mercato e allora adesso ci ritroviamo a dover fare un'analisi delle situazioni psicologiche, da una parte c'è Sebastiani che giustamente dice che va bene il mercato che ha fatto, era un mercato da dieci che anzi ha detto anche che non si ritornerà sul mercato perché la squadra così com'è sta bene deve avere soltanto un pizzico di fortuna in più, questo dice lui, dei tifosi invece si sono frazionati, c'è un gruppo che cerca di giustificare in tutti i modi la società dicendo beh basta parlare adesso di errori del mercato o della punta che manca o di questo o di questo perché questa è la squadra e così bisogna andare avanti, è come mettere lo struzzo la testa sotto la sabbia. Un altro gruppo invece di tifosi, l'altra parte dice se andiamo avanti così retrocediamo e perdere la Serie A per non aver fatto bene la campagna, il mercato estivo è un grosso peccato anche perché basta prendere un elemento, un attaccante vero. Vero è che in difesa bene o male con Fornasier e con Coda che ha giocato anche bene ieri, però bisogna vedere adesso le sue condizioni, pare che sia fatto male ancora una volta. Gli aspetti migliori li teniamo a centrocampo però in attacco non ce l'abbiamo, allora che succede? Che Pescara deve portare avanti questo scherzosamente diciamo il tiki-taka abruzzese, questo fraseggio serrato, però noi non abbiamo la capacità di fare questi passaggi senza errori, vai a fare l'errore sempre, costantemente nel momento meno indicato e quindi è un tiki-taka che è un aborto del vero tiki-taka spagnolo. E allora ci troviamo in una situazione per cui adesso la partita di domenica con Lempoli diventa, per fare un po' di colore, la partita della vita, perché se non vinci questa partita si appende un pochino tutto, ma si appende anche perché abbiamo dei problemi. Brogman potrebbe essere squalificato, era già diffidato quindi con il cartellino giallo preso e quindi salta la partita. Coda potrebbe saltare la partita e quindi che si fa? Niente, Oddo con la sua filosofia di gioco dice andremo avanti per la nostra strada in questo modo e non può fare diversamente, non ha gli uomini per poter cambiare modulo di gioco, deve continuare ad insistere in questo modo cercando di fare però che cosa? Alzando un pochino di più il tasso tecnico in modo da evitare di fare degli errori in questo fraseggio di cui ho parlato prima e poi eventualmente aumentare anche il tasso fisico della squadra dandogli la capacità di lottare e correre per 90 minuti a ritmi notevoli in modo da poter sfruttare gli eventuali rilassamenti della squadra avversaria. Ieri è stata una bella partita, l'ho detto all'inizio del mio intervento, i migliori sono stati sicuramente bene lì, a me è piaciuto molto, non so ma è Musciai, Giampano che continua a confermarsi uno dei migliori terzini, giovani, del resto da esterno di centrocampo non mi è piaciuto moltissimo, ma da quando parte da terzino che ha tutta la fascia su cui correre e poi crossare mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto anche Brugman, devo dire la verità. Qualcuno dice ma ieri se non ci fosse stato un super Donnarumma avremmo vinto la partita, ma insomma signori miei bisogna essere obiettivi. Donnarumma è un portiere bravissimo, ha fatto un paio di parate eccezionali, ma le parate di Bizzarri non le vogliamo ricordare? E i pali colpiti dal Milan non li vogliamo ricordare? Allora bisogna essere obiettivi e cercare di dire questo, la partita con il Milan si è persa e si poteva anche stare, però bisogna non perdere le altre, quelle che sono alla nostra altezza. Ma quali sono alla nostra altezza? In un primo momento i tifosi pensavano di asfaltare l'Atalanta, il Chievo e via dicendo e ci abbiamo preso botte sul muso. E allora un po' più di umiltà, un po' più di coraggio nell'impegnarsi a fondo nel lavoro e soprattutto ritrovare quella unitarietà di intenti che deve rivedere insieme squadra, società e tifosi. Tutto per questa edizione. Un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso, un ringraziamento particolare al regista Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.